La famiglia Ferragnitz sta per concludere un capitolo emozionante, mentre si prepara a iniziare una nuova avventura nella loro nuova casa, dopo l'ultima festa tenutasi nella vecchia dimora di Vittoria Ferragni. I preparativi per il trasloco sono ormai giunti alla fase finale. Siamo impazienti nell'attesa di vedere la famiglia Ferragnitz fare il loro ingresso nella nuova dimora. L'immagine di questa nuova casa ancora vuota presto, si trasformerà in uno scenario di vivacità, gioia e amore, con Leone e Vittoria che esploreranno ogni angolo e creeranno ricordi indimenticabili. Nel frattempo, mamma Chiara e papà Fedez avranno l'opportunità di godersi i momenti di meritato relax in questa nuova e affascinante cornice. Non vediamo l'ora di vedere questa nuova casa trasformarsi in un luogo pieno di calore familiare e felicità. È solo questione di giorni prima che la famiglia Ferragnitz faccia ufficialmente il trasferimento e inizi una nuova avventura nella loro splendida nuova dimora. Iscriviti al nostro canale